Andiamo invece noi sul territorio adesso, perché pensate, 4.000 euro in tutto sarebbero stati sottratti nella notte tra sabato e domenica in un asilo nido in terzo municipio, il nido Piccoli Talenti. Si riaccende insomma al tema della sicurezza, in particolare su questo territorio, proprio sui continui furti all'interno di questo tipo di strutture. Sentiamo. Ancora furti, ancora una volta ad essere derubati, sono stati i nidi del terzo municipio. Purtroppo passano i mesi, ma questa emergenza non viene risolta. Dall'anno scorso si sono archiviate più di 50 rapine. Tra sabato e domenica è stato colpito il complesso scolastico Piccoli Talenti e Palminatalenti in via Dario Nicodemi in zona Bufalotta. I ladri, oltre a portare via il cibo che sarebbe servito per preparare il pranzo dei piccoli, hanno rubato apparecchiature elettroniche e un'importante somma di denaro. Purtroppo questa volta il furto è stato anche abbastanza importante, se così si può definire, perché oltre ad aver svuotato i locali di Mensa, tant'è vero che oggi i bambini avevano a pranzo soltanto riso e olio, e comunque ringraziamo il personale sia docente che il personale della Mensa che riesce nonostante tutto a garantire il servizio. Infatti tant'è vero che alcuni genitori hanno deciso di lasciare i bambini, tanti altri invece li hanno portati via. E dicevo appunto, oltretutto ad aver svuotato i locali di Spensa, questa volta i ladri sono entrati in modo più attrezzato rispetto al solito, perché avevano con loro un frullino addirittura. Tant'è vero che oltre ad aver aperto la porta secondaria del plesso scolastico, hanno addirittura aperto una cassaforte, dove purtroppo c'era una somma consistente di denaro per una raccolta fondi che ogni anno la scuola fa per delle associazioni, per delle operazioni, per dei bambini meno fortunati. Alcuni genitori riferiscono che la cifra dovrebbe essere addirittura intorno ai 4 mila euro purtroppo. Da Talenti alla Bufalotta, da Montesacro a Sacco Pastore, vari quartieri del terzo municipio sono stati colpiti dai furti che spessano riguardato le provviste alimentari degli istituti scolastici. Noi abbiamo documentato nello specifico i casi dei niti di cecchine, cocco e drilli derubati più volte negli ultimi anni. In molti chiedono nuovi sistemi di sicurezza. Come per esempio l'installazione degli impianti di videosorveglianza, che avevamo richiesto anche con degli emendamenti durante il bilancio, ma l'attuale amministrazione ce li ha respinti, e poi anche attraverso dell'installazione di porte blindate o di inferiate nei locali di Spensa, nei locali Mensa, che sono quelli più colpiti all'interno dei plasti scolastici.